La mancanza d'azione a livello globale in favore di diritti umani sta rendendo il mondo sempre più pericoloso per rifugiati e migranti. È l'allarme lanciato da Amnesty International in occasione della presentazione del rapporto sui diritti umani. Nel mondo dell'anno 2013 la tortura è praticata in 112 paesi, in 80 si sono svolti processi iniqui. La comunità internazionale deve essere più responsabile. Che senso ha un concetto di sovranità che protegge i governi che violano i diritti umani? Quando invece dovrebbe tutelare i diritti dei propri cittadini o delle persone che vivono in certi territori? Troppi governi, denuncia Amnesty, stanno violando i diritti umani in nome del controllo dell'immigrazione. Un'evoluzione positiva si registra solo negli stati che applicano la pena di morte, scesi a 21. Gran parte dei 214 milioni di migranti in tutto il mondo vede calpestati i propri diritti. Una vera e propria emergenza umanitaria alla quale la comunità internazionale è chiamata a dare risposte più efficaci. Giovanni Maggi, Euronews, Parigi.